buongiorno ragazzi questo è un video doppio cosa vuol dire facciamo vedere sia il video come proseguono i lavori naturalmente sia tutta la preparazione come e quanto tempo ci si mette a creare quei cinque dieci minuti di video veloce dove voi vedete la costruzione adesso stiamo sistemando tutti i mezzi il progetto è pulire quello e portare la sabbia magari possono portarla anche lì ma se questa schifezza ce la fa adesso preparo tutto e con la bambina lì andiamo avanti e valuteremo cioè faccio vedere tutta la procedura e vedrete sia il video che il retroscena dietro le quinte oggi il vento ce la sta facendo a volte fa fare dei bei giro la paleolica ecco questo è ciò che va nel video elementi in mezzo alla pista no amore lascelo lì amore no lì papà lì mettilo lì dove era prima no lì lì ecco lui deve andare a caricare lì lui tu vai laggiù e poi dentro mi aspetta vai laggiù fai il giro amore fai il giro fai il giro brava così piano lì fa la nanna fa la nanna lui attenta eh vai a prendere le cose amore anche tu passa qui piano piano vieni vieni qua brava vieni vicino a me brava dai vieni arriva ti piace amore vai 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 tira su tira su tira su brava su troppo veloce su brava indietro spazi cosa qui cosa qui amore cosa qui davanti lì no qui amore qui qui da papà dammi la manina ok attenzione scavalca dai manina oh lì 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 vai col tuo lì vai col tuo lì vai col tuo tuo rispo vai come no ma è che la tua rispo quella non è quella aspetta papà adesso i movimenti a fare ogni volta che tagliamo come tutti sapranno abbiamo uno stabilizzatore ci mantiene tutto. Posso? Posso? Vieni da Papi, vieni, piano eh. Piano, bravissimo. Tieni qua, guarda eh. Vieni qua. Sì, vieni, vieni, Dillo. Vieni, vieni, eh, vieni. Provate a fare un video. Dove devo andare? Lì? Vieni vicino a te? Tieni? Posso? Eh? Vengo, amore? Guarda dove vado qua, guarda eh. No, vieni qua, stai giù, tranquilla. Non ti toghi i piedi, tranquilla. Guarda. Guarda eh. Va bene? Ah, ragazzi. È di nuovo partita la cassa. Che schifo. Ah, veramente. Vai. Ecco qua, avete visto? Per riempire la terra? Posso? Eh? ferma lì, ferma, 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 ferma. Passa. Manina scavalca. No, di qua papà, di qua, di qua. Papà. Oh, cara, cara. Sì, amore? Quattimeno risposta, ragazzi, che... Ecco tutti gli altri quinte che molte volte devo tagliare e da video di un'ora, mezz'ora, diventano cinque veloci. Attenta. No, per guardare lei ho sbagliato. Attenta. Mi hai distratto, amore. Attento. 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 I difetti di questo damper, non vale una ben amata a niente, facciamo quella indietro tanto, ragazzi ovviamente è pessimo Adesso lei mi sta distruggendo le paratie, vabbè, dettagli Ah, come vuole la cassa va Perché l'hai tolta quella? Attento, ti fai la bua Là che ti fai la bua, guarda, guarda cosa hai fatto qua, vieni qua qui, vai Vai di là, chiesa qua Sì, ti fai la bua qua Guarda, ti fai la bua qua Guarda, ti fai la bua qua Sì Ti aveva in testa questa qua così, ti fai la bua, guarda Tutto Non andrà lì che ti fai la bua Vai lì, ti fai la bua, ti fai lì, ti fai la bua Ti metti a posto lì Dove vai? Perché? Lì devi andare La terra è morta La terra è morta Intrusi, piano, piano amore, piano, ferma lì Calma eh Ti sento la papi? Vieni qua tu Fai il giro, vieni da me Vai lì? Cosa iniziato Qua cruderà. E questi sono tutti i movimenti che devo fare ogni volta per spostare e cambiare le scelte. Ecco, mi ha distrutto tutta la parte di... Attenta! Ecco, serpenti crescono. Ti sposti amore, per favore? Grazie! Uh! La moto? Vieni qua papà! Lascia lo sarevi quello eh! Fa la ninna adesso! Vieni qua amore! Grazie! Aspetta papà! Aspetta papà! Aspetta papà che viene questo! Ti sposti amore? Eh, devi spostarti! Vieni qua c'è la moto! Vieni dai! Dai amore! Eh! Vieni! Ti sposti, per favore! E dai, vieni papà che stai scavando per togliere questa terra lì, amore! Grazie a me l'hai mossa, è più morbida! Vieni papà, vieni! Vieni papà, vieni! Vai a metterla posta la tua spetta lì! Vai a metterla posta! Arriva la moto adesso! Allora, non la puoi eviti? Ma quella non la puoi richiedere? No! E' rotta! No, ma ormai è... Magari si è saldata? Eh, appunto, sono legata, guarda! No, eh! Non è meglio! Vedete che non faccio la tasta! No, ma questa è la gru, ho sbagliato! No, ma questa è la gru, ho sbagliato! Non è solo! Non è solo! Non è solo! Non è solo! Ragazzi, questa è la situazione! Quindi come devo cambiare? Mezzo! Mezzo! Telecomandi! Mezzo! Mezzo! E da qua si mi sposto! Ad inquadratura e finiamo il video! Ciao ragazzi! Dopo aver fatto il video, ho convolto con mia figlia Vedete la giù! Distruzione! Distruzione! Però, eh... Fa parte del gioco anche questo! Questa è la situazione! Dietro le quinte di invidio, tutto per terra, sistemato! Adesso andiamo a soffiare uno in mezzo, staccare le batterie uno in mezzo, caricare le batterie uno in mezzo, vabbè, qua stavo volando lo stabilizzatore che ho un vecchio mozza pesantissimo, ma abbastanza togo! Adesso, oggi abbiamo fatto qui, in questo video, e poi andremo a fare pari della luce, sto stampando alcune pompe di benzina, piano piano, come ho detto, cresceremo anche come dettagli nella cava. Qui è il pastorello del terremoto, c'è la bambina, qua è passato, però purtroppo, vedete, guardate lì, era troppo tutto messo in ordine. Oggi la paleolica ha trovato un buon vento, sta anche funzionando. Signori, grazie della visione, iscrivetevi in molti, alla prossima!